Ah, John. Sì, sì, signore. Non credi che dovremmo mandare il parcomacchina allo sfasciacarrozze? Vedi, secondo il tuo registro dei chilometraggi e dei consumi, ogni macchina fa in media 25 chilometri al giorno, con un consumo di 3 litri a chilometro restando fermo in garage. Ci ridurremmo la bancarotta se decidessimo di portarle realmente su strada. Beh, quelle cifre non sono esatte, sono un po'... esagerate. John, tu ce l'hai una valigia? Sì, ce n'ho... cinque, ma... Un'altra può essere sempre utile. Beh, credo che cinque siano sufficienti. Riempile tutte cinque, sparisci da questa casa entro 45 minuti, altrimenti ti sparo a vista per violazione di domicilio. Io non afferro la ragione di questa... Cercherò di chiarirtela, John. Ti licenzio perché sei un lurido farabutto. Pertanto se non sei fuori da questa casa e dai terreni circostanti entro 45 minuti, io ti sparo, come intruso, con dimostrate intenzioni criminali. E io sono un eccellente tiratore. Hai afferrato adesso? Beh, lasciamo perdere, perché se lei scende a questo livello... ...mi licenzio io. E quanto voi altri avete esattamente due ore per andarvene? Fuori! E a quella pancia non ci credo nemmeno se la vedo al naturale! E a quella pancia non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.